Il gruppo Minarini realizzerà un nuovo polo produttivo di 40.000 m2 a Sesto Fiorentino nell'area ex Longinotti. È un investimento da 150 milioni di euro per oltre 250 posti di lavoro e altrettanti nell'indotto, approvato un protocollo d'intesa tra regione, comune, città metropolitana e azienda. Il progetto assume una rilevanza strategica sia per il recupero di un'area industriale ferma da tempo, sia per la tipologia di attività e di innovazione, sia per le ricadute occupazionali e le opportunità per le PMI toscane, commenta il presidente della regione Enrico Rossi. Soddisfazione è stata espressa anche dai sindaci di Firenze, Dario Nardella, e Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi. Un fatto straordinario, commenta Nardella, che arriva in un momento di grande sofferenza per l'economia locale e internazionale e per questo vale ancora di più come segno tangibile di ottimismo e di fiducia verso il nostro territorio. Da sindaco metropolitano non posso che plaudire a un'operazione che rafforza tutta l'area fiorentina. Il nostro territorio, dice il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, si conferma capace di attrarre investimenti e competenze e si avvia sempre più a diventare un distretto della farmaceutica di livello nazionale. Abbiamo preso una decisione di cuore, hanno commentato Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del board di Menarini, condivisa con il CDA, privilegiare il nostro paese e farlo subito con un investimento di 150 milioni che dia immediatamente un contributo all'economia e all'occupazione.